Ok, allora benvenuti, siamo qui per questo primo incontro di EDUVR. EDUVR, aspettate che ho perso il controllo del video, EDUVR sarà un progetto formativo sulla realtà virtuale che parte adesso, quindi parte a inizio di febbraio e durerà qualche mese, credo almeno due o tre mesi ci serviranno per vedere un po' di cose. Allora, come si svolge questo corso? Allora, innanzitutto per chi non conosce insomma come si struttura, questo più che un corso diciamo è una sorta di seminario in cui io diciamo che cercherò di facilitare il più possibile, ma è un'esperienza diciamo condivisa in cui cerchiamo tutti di contribuire nell'ottica che noi di EDU3D chiamiamo quello di una comunità di pratica e cioè la possibilità diciamo di interagire dove ci sono delle persone che ne sanno di più, altre che ne sanno di meno, ma soprattutto che le mancanze, insomma le cose che non conosciamo le scopriamo insieme, quindi nell'ottica anche di una classe capovolta, qui a lezione vedremo delle cose, ma la maggior parte dell'attività viene svolta da voi a casa propria, sul gruppo di Facebook, esiste un gruppo di Facebook, se non siete ancora iscritti poi magari anche via chat adesso potete chiedere ci sono i link, c'è una classe Google Classroom a cui potete iscrivervi, Google Classroom serve per diffondere insomma i video, i documenti e soprattutto per dare i compiti, quindi non solo i materiali e soprattutto in altro lo vedremo un pochino meglio e quindi procederemo adesso a vedere l'obiettivo. Allora l'obiettivo del corso non è tanto quello di fare un corso approfondito di realtà virtuale, questo perché non basterebbe il tempo a nostra disposizione per fare un corso molto approfondito, ma daremo le basi. Allora le basi per lavorare in realtà virtuale saranno, come vedrete, la possibilità di usare dei visori, visori che partono dai Google Cardboard, ma si arriverà, citeremo anche Google Cardboard, poi Oculus Go, abbiamo Oculus Rift, HTC Vive, insomma tutta una serie di cose e questi visori potranno essere programmati con un linguaggio che si chiama Unity che è un sistema di creazione di game e di ambientazione nei mondi virtuali. Ho scelto Unity che a me non eccita in modo particolare, nel senso che è un prodotto che pure essendo gratuito è però un prodotto chiuso, fatto una grandissima società, ma ha in questo momento il vantaggio di essere estremamente semplice e funziona perfettamente per le cose che ci interessano. Quindi ci sono ovviamente dei problemi a imparare a usare Unity, ma diciamo che i problemi che esistono quando usiamo questo prodotto sono un centesimo, un millesimo di quelli che avremmo con altri sistemi. In particolare voi sapete che l'anno scorso ho fatto un corso di Godot, che è un sistema di creazione di videogiochi molto simile a Unity, ma open source è piccolissimo, quindi c'è 30 megabyte di cose da scaricare, quindi è una cosa ideale, ma è un pochino complesso da usare. In più l'altro caposaldo di tutto quello che noi facciamo qui è la creazione, quindi quello che abbiamo visto, cioè noi non vogliamo insegnarvi a fruire dei mondi virtuali o soltanto a conoscere, ma l'idea è quella di costruire, progettare delle cose da farsi nei mondi virtuali, quindi essere quelli che noi abbiamo definito sulla base di una teoria economica del ventesimo secolo che era il prosumer, la possibilità di essere contemporaneamente produttori e consumatori di informazione, di arte, di conoscenza in generale, quello che è poi anche il nostro, cioè ciò che soggiace alla comunità di pratica che abbiamo visto prima. Quindi Blender è questo corso parallelo che stiamo organizzando in questi giorni, la prima incontro l'abbiamo visto due settimane fa e adesso ci sarà un incontro, nell'incontro di due settimane fa abbiamo visto come costruire una damiera, una cosa relativamente semplice. Tra l'altro domanda, quanti di voi sono iscritti anche a questo corso? Alcuni di voi sono veterani, quindi di per sé fare le damiere o cose così potrebbe essere anche semplice, ma la cosa che cerco sempre di fare è di ripartire anche dalle banalità o comunque per chi già sa ovviamente, per chi non sa non sono proprio banalità o per chi magari si è scontrato, magari sono ancora degli incubi, però rifare le cose dopo un po' le fa diventare un po' più automatiche, un pochino meno spaventose e quindi è sempre meglio esercitarsi sulle cose anche facili. Quindi le prossime lezioni del corso di Blender verranno tenute da Eva e da Giovanna che sono offerte volontarie, non è escluso che qualcuno di voi se vuole anche lui spiegare delle cose potrà essere messo in cantiere. Per esempio lezioni di stasera sarà dedicata anche alle foto 360 gradi e Laura Antichi, tutti portate le mani, Laura Antichi già si era proposta per fare una lezione specifica per fare appunto foto 360 gradi e questo potrebbe, credo che possa essere un'idea per il secondo incontro. Ok, prima di partire ci sono, ah sì ecco me l'ho dimenticato, volevo dirlo ma mi stava sfuggendo, una cosa che stiamo facendo, anzi che più che, ho usato un plurale un po' non meritato nel senso che lo state facendo voi, lo sta facendo soprattutto Michelangelo, tutto il progetto dell'Escape Room che è un progetto che è stato iniziato a settembre, un progetto che doveva iniziare con, doveva avere un'evoluzione di uno o due mesi ma che si è protratto nel senso che ha riscosso un entusiasmo incredibile direi. Quindi ci sono, mi hanno detto che nell'ultima riunione che avete fatto la settimana scorsa di coordinamento c'erano 15 progetti in corso di Escape Room che sono una quantità immane e non so, ci sono tutta, ci sono, ah tre ci sono ridotti, due sono già scappati. Va bene, allora prima di partire dicevo c'è qualche domanda sulle cose che ho detto, classe capovolta, comunità di pratica e via discorrendo? Il fatto che siamo volontari, che non, quindi non siamo, cioè i nostri corsi tra l'altro per chi eventualmente è la prima volta che viene, se qualcuno è venuto per la prima volta sappia che noi appunto non facciamo dei corsi aventi un valore ufficiale, sono corsi informali, ma chi frequenta o comunque partecipa a queste iniziative di solito poi riesce ad avere una buona conoscenza. Noi diamo un diploma a fine del corso, che è un diploma sostanzialmente partecipativo, non è un diploma che dà crediti formativi di nessun ordine grado, non lavoriamo per indire, quindi siamo praticamente solo volontari. Visto che prima se ne citava, noi abbiamo comunque qualche piccola spesa per gestire tutte queste attività che vanno dall'acquisto del server, cioè il noleggio del server che è dato anche col contributo di Liku qui in Craft, dove facciamo questi incontri nei mondi virtuali, ma anche ad esempio l'affitto di Zoom e poi tutta una serie di altre piccole spese che facciamo per gestire insomma queste cose. Comunque non sono importi grandi, sono cose molto piccole, ma a metà o a fine del corso, se poi volete dare un contributo, una donazione, questa serve. Se anche non c'è, non è importante, noi non lo facciamo per rientrare nei costi o per altro, però comunque sicuramente se ci viene alleggerito o se ci viene fuori anche un caffè. Beh, a parte che Zoom una volta che registra il video poi puoi anche estrarre l'audio, però direi che ci sono delle cose molto migliori, più semplici per registrare l'audio, anche se non sono un esperto di podcast. Comunque volendo si può anche usare Zoom e poi estrarre l'audio da lui, insomma. Bene. Sì, Audacity, però forse Audacity funziona benissimo sicuramente, ma forse per film troppo, troppo, per film quasi un attimo pesante. Secondo me c'è qualcosa di più leggero per far registrare solo i podcast. Va bene, allora, detto questo... Ah, sì, ecco, mi sembrava anche a me di averlo visto che c'è anche un file audio separato, quindi può essere sufficiente semplicemente non avere niente a video e parlare e quindi esce fuori tutto ciò che serve. La registrazione, però, mi sembra che sia solo nella versione a pagamento di Zoom, se non vado errato. Quindi se voi volete usare Zoom in una versione free, mi sa che non è prevista la registrazione, però eventualmente controllate. Noi paghiamo adesso, sono 17 euro al mese per la versione a pagamento. Va bene. Allora, andiamo un secondo su... Allora, io ho preparato qua un... Aspettate... Ah, è prevista la registrazione anche... Allora, innanzitutto vi faccio un piccolo escurso sugli strumenti che ho accennato prima, che sono il... Allora, abbiamo innanzitutto il gruppo Facebook di Edu3DVR. Edu3DVR è un gruppo Facebook in cui noi cerchiamo di discutere e quindi discuteremo qua su tutto quello che succede. Voi siete invitati caldamente a iscrivervi, se non l'avete già fatto. C'è anche un Bitly. Ecco, tra l'altro, io ho fatto tutti questi indirizzi Bitly. Bitly è un accorciatore di URL e quindi, ad esempio, Edu3DZoom è l'indirizzo che da ora in poi vi dovrà essere stampato nella testa perché tutte le volte che mi chiedevate tutto l'indirizzo, il codice di Edu3DZoom l'abbiamo, l'ho, diciamo, incapsulato dentro questa cosa. Voi dovete solo ricordarvi Zoom. Voi mettete Bitly Edu3DZoom e siete automaticamente collegati. Quindi questo è un vantaggio degli indirizzi fatti così. Così come ho fatto un Edu3DFBVR, mi sembra, questo qui è l'indirizzo che vi porta direttamente al Facebook. Quindi se io qui faccio Bitly Edu3DFBVR, vi porta automaticamente sul gruppo Facebook di Edu3D. Quindi questo, e tra l'altro qui ci sono già, vedo che vi siete già iscritti, quindi cominciamo ad approvare. Approva Daniele, approva Roberto Falchi. Ok, quindi abbiamo provato le tre persone. Quindi vedete come è facile riuscire ad andare piuttosto che dover dare in giro questo link che mi sembra francamente un po' complicato. Dopodiché c'è il, se voi entrate in Edu3DVR, vedete che c'è il codice Classroom del corso, questo 2LK5DBJ e questa cosa qua, se non l'avete, se non vi siete ancora iscritti, basta che andiate su Classroom. E su Classroom c'è la possibilità, da qualche parte, di… dov'è che si fa per… comunque c'è la possibilità di iscriversi a un corso. Crea. No, ma crea, aspetta, crea, compito… no, 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 no. Allora andiamo sui corsi. Ah, c'è più. Credo che basta cliccare sul più. Quindi cliccando sul più potete iscrivervi a un corso o creare un corso. Se iscrivete al corso dovete mettere quel codice 2LK5DBJ e a quel punto vi iscrivete automaticamente al corso in questione. Non lo faccio perché… Questi qui sono tutti corsi che ho organizzato negli ultimi due anni e quindi abbiamo Edu3DVR 2020 e anche qui ho fatto… quindi se voi entrate nel corso, quando entrate vedete che c'è, e se lo dico per chi non l'avesse mai visto, comunque c'è un'area di streaming che è una specie di blog a sua volta. In realtà io cerco di usarlo non tantissimo perché è un po' una ripetizione di Facebook. Ma qui… quindi non preoccuparti… ci sarà una registrazione. Ok. E poi abbiamo… quindi qui ci sono commenti, si può fare discussione. Man mano che vengono pubblicate le cose… infatti vedete che io ho pubblicato questo post dove è l'oggetto delle cose di cui volevo parlare oggi. Qui, oltre… adesso prima di andare nella… queste che sono una specie di diapositiva, voglio solo farvi vedere che ci sono i lavori del corso e qui ci sono i famosi compiti, materiali compiti. Quindi nell'introduzione qui ho messo un documento, questo è EduVR 2020, dove c'è più o meno il programma più o meno del corso. Quindi vogliamo dare un lessico del mondo 3D VRR e cercheremo di farlo stasera. Sicuramente non copriremo tutto, ma cercheremo di darvi queste cose. Infarinatura di Blender 2 8X, ecco questo lo volevo mettere all'inizio proprio in questo corso, ma poi ho preferito fare un corso separato, che comunque si miscela quello attuale, quindi alla fine ci siamo. Quindi l'idea è di farvi capire un pochino bene cos'è il mondo 3D VR in particolare, eventualmente anche la R, quali sono gli strumenti, un po' la storia, ecco volevo fare un briciolo di storia stasera di quello che era e volevo anche farvi vedere qualcosa come Merge Cube o Merge Viewer, fare insomma queste cosine che tra poco vi saranno chiari. Quindi lessico e storia. Infarinatura, infarinatura di Unity, questo invece lo faremo, quindi cercheremo di capire come installare Unity, non stasera e magari ci impiegheremo qualche settimana per arrivarci. Poi cercheremo di applicare tutte queste cose a Google Cardboard e su Google Cardboard non avete scuse, nel senso che tutti voi avete uno smartphone. Se è uno smartphone più piccolo di 5 pollici 9, purtroppo c'è questo problema su Google Cardboard che funziona soltanto con smartphone non troppo grossi. Quindi, quanti di voi ha dei smartphone più grossi di 5 e 9? 5 pollici 9, che sono le risposte, ma comunque spero che non siano tantissimi perché comunque nel caso vi dotate, trovare uno smartphone da 50 euro, un pochino di più magari, per farlo eventualmente in aggiunta è sicuramente una spesa fattibile rispetto a un Oculus Rift. E poi vogliamo vedere come tutte queste cose si miscelano insieme alle realtà, proprio quelle di lusso, quindi con l'Oculus Rift, però parleremo di Oculus Go, che sta un po' a metà fra Google Cardboard e Oculus Rift, magari anche un pochino di HTC Vive, e eventualmente qualche accenno di realtà aumentata fatta con Merge Cube, e lì c'era anche Sergei Zarfa che aveva fatto già delle cose, ma qualcosa aveva fatto anche Giovanni. Insomma, diciamo che molte delle cose che diciamo qui, con voi ci sono delle persone che hanno già fatto delle cose. L'obiettivo finale è di arrivare a un saggio finale, e il saggio finale sarà quello di fare un paesaggio che sarà visibile, navigabile, e per quelli che ci riusciranno, perché comunque man mano che andiamo avanti su questa scaletta diventa leggermente più complesso, allora visibile, lo vedrete, sarà una cosa abbastanza semplice, basta avere un'immagine a 360 gradi o giù di lì. Navigabile vuol dire poi mettersi a muoversi, questo mondo, e poi interoperabile, nel senso che potrete interagire con gli oggetti, con le cose che ci saranno dentro. Quindi a seconda poi di come vi sentite potrete fare uno, due o tre passi, e infatti vedete che qui è scritto facoltativo, interazione con oggetti. E poi l'obiettivo finale sarà quello che voi dovrete pubblicare un video che testimoni quanto avete fatto, quindi magari questo visto che diventa anche abbastanza facile da fare. Poi c'è tutta una cosa dove vi spiego più o meno quello che ho detto adesso. Comunque questo era solo per dirvi che siamo nei lavori, quindi questa era l'introduzione, invece il 12 febbraio oggi andiamo un attimo nel merito. Però prima di entrare nella parte storica, diciamo un po' così, vi faccio solo vedere quello che volevo, su cosa volevo arrivare, cioè la foto a 360 gradi. Allora la foto a 360 gradi, tra l'altro io l'ho imparato proprio mentre cercavo di spiegarvelo, nel senso che parlandone in Facebook molti di voi mi hanno dato consigli, eccetera, eccetera. E abbiamo visto che è possibile usare Street View. Quindi noi abbiamo... Allora c'è un programmino che mi ha fatto vedere stasera, qualcuno l'ha pubblicato, che si chiama Street View Download, questo è svd360.streetview.com. Questo programmino, ve lo metto qua, questo qui è un programmino che in realtà, almeno come l'ho visto io funzionare, funziona in maniera un pochino non iperbanale, ma neanche complicata, nel senso che bisogna innanzitutto scaricarselo. E quando si scarica, compare questa videata dove vi chiede dove salvarlo, dove salvare la vostra cosa e soprattutto un panorama ID. Il panorama ID, purtroppo, per ottenerlo, occorre andare su un sito che è eStreetView, quindi c'è questo sito eStreetView, e su eStreetView, eStreetView praticamente cosa succede? Che chiede di caricare, almeno io l'ho usato così, confermami Laura se ho seguito la procedura giusta, lui vuole una urlo di StreetView. E questa urlo qua, io l'ho ottenuta andando su Google Maps, ho cercato un panorama a 360 gradi, e in cima ho preso questa urlo che mi è uscita fuori, quindi lì sono su Google Maps, tra l'altro per chi non l'avesse... Sì, sì, da Google Maps, nel senso che io sono proprio andato qua, ah, da Google Maps intende c'è qualche altro sistema per prenderlo? Non si fa così. Comunque, magari poi facciamo proprio nella... O lo scrivi adesso comunque sul... Facendo così ho visto che mi ha funzionato, nel senso che l'ho presa, facendo l'odd lui mi ha caricato l'immagine, e con questa immagine qua, a questo punto mi compare questo panorama ID, l'ho copiato e sono andato sul... qui e gli ho messo il panorama ID, e gli ho detto un posto dove metterlo, G2. G2. Ho potuto dare, diciamo, un faro vittoria.jpeg. Gli ho detto download panorama, quindi lui mi scarica il... ha fatto il panorama del faro della vittoria, e quindi a questo punto questa cosa qua la provo a pubblicare se ci riesco direttamente su edu.br, quindi qui vado a prendere il... andiamo un po'... faro... vittoria questo... e provo a vedere se riesco a infilarlo. Ok? Sembra che l'abbia riconosciuto. Ecco, questa immagine... ma io ho usato solo questi due... comunque, adesso questa era solo una dimostrazione veloce, poi la... faremo proprio un intero... farete, perché... eStreetView... sì, ma io non ho fatto quello... ah... eStreetView l'ho preso da qua. Ha fatto esattamente la stessa cosa, quindi sono andato su eStreetView, ho caricato la URL che ho preso da Maps, l'ho messo dentro eStreetView, ho caricato l'immagine, ho preso questo codice, e questo codice l'ho messo qua, e l'ho messo qua dentro la cosa. Poi adesso... prova... faro della vittoria. A questo punto lo pubblico, in tempo reale, e quindi in teoria voi dovreste riuscire a navigare anche voi in questo parco, questo è uno dei punti più alti di Torino, e la stessa cosa si può fare per qualunque altra cosa. Ora, voi sembrerà... allora, questo è il modo più facile in assoluto per fare una foto a 360 gradi, poi in realtà ho fatto vedere... tra l'altro c'è Massimo che già... c'è anche un modo per fare queste foto a 360 gradi proprio fatte da voi, e il metodo per farle da voi è un pochino più complicato, con risultati anche più tremendi, nel senso che così sono perfette, se no dovete attrezzarvi con... praticamente dovete diventare un tripode perfettamente fermi, fare una ventina di foto, no? e esce fuori anche un'immagine fatta così. Qualcuno di voi mi ha fatto osservare che ci sono dei panorama 360 che permettono di fare le foto in maniera molto molto più semplice, quindi c'è camera, cardboard camera, invece c'è padorama 360, tanti altri, questi programmi sono bellissimi, il problema di quei programmini lì è che pur essendo molto facili da usare generano solo una strisciata orizzontale e per l'applicazione VR che andremo a fare avere solo la strisciata è interessante, cioè non è da buttare, quindi l'idea di fare delle strisce non sto dicendo che sia brutta, però quando poi mettete il casco e vedete solo la striscia davanti e dietro non è la stessa cosa e è un pochino più, è meglio avere, diciamo, le foto a 360 gradi. Allora, per 360 gradi mi hanno fatto notare sono anche quelle fatte a strisciata sono a 360 gradi, ma in realtà per 360 gradi spesso si intende meglio 360 gradi in tutte le direzioni, quindi sia verso l'alto, sia verso il basso e anche ovviamente le strisciate orizzontali. E queste foto qui, sferiche si chiamano, queste foto sferiche sono, diciamo, le migliori per poter essere usate nella realtà virtuale e poi vi insegneremo come usarle. Ho visto che su internet vendono delle macchine fotografiche a 360 gradi, di cui alcune costano anche poco. Non so quanto funzionano bene, però in realtà ho visto che ho visto che gli danno un punteggio neanche tanto malaccio, quindi qualcosa faranno. Sono delle macchine fotografiche Huawei, che però ho letto che dovrebbero funzionare anche con Samsung e con alcuni altri smartphone Android. In realtà so che molti di voi hanno già comprato delle foto, delle macchine da prese a 360 gradi, abbiamo visto che le foto a 360 gradi sono un buon punto di compromesso tra il costare relativamente poco e ottenere degli ottimi risultati. Per quanto riguarda l'Oculus Go, poi lo vedremo, è una delle piattaforme che segnaleremo tra le più interessanti. Se avete un minimo di budget, io vi consiglio caldamente di prendervi un Oculus Go che costa sui 150 euro circa. Se invece avete poco, meno budget, vi consiglierò poi di comprare il Merge Viewer che costa sui 50 euro. Se avete ancora meno budget, potete comprare il Google Card. Comunque lo vediamo meglio tra poco. Ok. Allora, detto questo, andiamo sul... Dunque, dove è? Era sui lavori del corso. Introduzione. Cosa si può fare con la VR? Avevo detto che vi avrete diato con un piccolo escursus storico, se ci riesco. E per farlo mi appoggio a un articolo che definisce così la VR, fatto su Wikipedia. Questo è un articolo su Wikipedia che io ho annotato. Io uso questo programmino che si chiama Digo che permette di annotare delle pagine web. in realtà il link che avevo dato è proprio l'articolo annotato, ma se io clicco qua io posso vedere... dovrei riuscire a vedere anche le mie annotazioni. Non le vedo. Allora, torniamo sull'articolo. Ah, forse perché devo fare... non ci ho fatto... vediamo... Scusate che... Vabbè, lasciamo perdere questo, ve lo faccio vedere nella versione... Nella versione... Andiamo un po' se lo ritrovo... Virtual Reality... Ecco, questo qui è l'articolo che avevo... che avevo, diciamo... Allora, qui c'è la definizione di cosa è la Virtual Reality e la cosa interessante di questa definizione... Sarò molto veloce su questa perché poi ve lo guardate voi. Tra l'altro io Wikipedia guardo normalmente la versione inglese perché la versione italiana è spesso un po' scadente, ma la versione inglese è ottima, quindi ha delle ottime definizioni. Allora, il concetto della realtà virtuale è quello che fa avere un'esperienza simulata e questa esperienza simulata tende a essere molto simile a quello che avreste nel mondo reale o a volte anche completamente differente. Come vedremo poi, perché il significato di virtuale è un concetto abbastanza interessante, nel senso che per virtuale non si intende, almeno spesso, c'ha due significati virtuali. Virtuale vuol dire che spesso è qualche cosa che è una finzione, ma nel senso è minore di ciò che vuole rappresentare, ma molto spesso è quindi proprio la definizione di virtuale, proprio quella originale etimologica, in realtà è un pochino più stringente, dice che sono delle cose che riescono ad avere degli effetti sulla vita reale, pur non essendo veri totalmente, però hanno, cioè sono reali nel senso che hanno degli effetti, quindi sono effettivi, ma non sono essi stessi, diciamo, materiali, cioè non sono visibili. Questa, una definizione tipo questa, in realtà è molto ampia e tra l'altro include non soltanto quello che stiamo dicendo noi, cioè in particolare la realtà virtuale fatta con i caschi, i visori, eccetera, ma soprattutto quasi tutte le forme d'arte e per esempio anche il teatro, il cinema, la pittura, insomma, tutta una serie di cose che vengono fatte dall'uomo, cioè di arti dell'uomo fatte da millenni, quindi non è che la realtà virtuale sia stata creata nel 1970 o comunque nel ventesimo, ventunesimo secolo, esisteva, tant'è che il termine di per sé risale alla metà del 400, del 1400 e comunque ci sono un sacco di cose. Allora, la cosa più importante di tutto questo articolo che io ho sottolineato qua in blu, in verde e in rosso, sono la capacità, quindi una persona che usa la realtà virtuale, un equipaggiamento della realtà virtuale è in grado di guardarsi attorno, quindi di vedere un mondo artificiale, quindi devi guardare un mondo che è artificiale nel senso che non è lì, ma ad esempio nelle foto che abbiamo visto prima sono pezze di mondo reale, quindi è un modo estremamente reale di essere nel mondo, cioè non è che si stanno vedendo delle cose fantasiose, si possono vedere anche delle cose fantasiose. ci si può muovere attorno in questo mondo e soprattutto si può interagire con delle cose che esistono in questo mondo virtuale. Allora, il fatto di guardare è una cosa che voi potete fare anche nel cinema, no? Guardare o ascoltare, quindi si può parlare di vedere un film, ascoltare una recita, un'opera teatrale. Una cosa un pochino diversa che però ad esempio a teatro a volte si fa è di muoversi nel teatro e che rende tutto molto più immersivo, quindi muoversi nel teatro vuol dire proprio andare vicino all'attore, no? Quindi vedere non essere semplicemente un spettatore ma potersi muovere e ultimo la possibilità di poter interagire, quindi non essere semplicemente un fantasma ma poter interagire con questo attore. Tra l'altro se siamo all'interno di un mondo virtuale noi possiamo vedere delle cose che sono direttamente collegate ad altre persone, muoversi attorno ad altre persone quindi osservarle sia pure virtualmente quindi magari non le vediamo completamente ma abbiamo una percezione abbastanza interessante e anche interagire nel senso che ad esempio in iFidelity non so quanti di voi hanno fatto il corso dei Fidelity due anni fa si arrivava a stringersi le mani nella realtà virtuale tutte queste cose qua sono cose molto potenti se notate in questa definizione di realtà virtuali perde un po' di consistenza il concetto dell'identificazione nell'avatar che invece è molto presente nei mondi virtuali infatti al desktop vi guardate Second Life Open Sim ma voi avete il vostro avatarino e cercate di vestirlo eccetera eccetera quando si arriva nella realtà virtuale il fatto di apparire in un modo o nell'altro diventa sì interessante importante ma quasi secondario perché voi non avete bisogno di immedesimarvi ma voi siete lì quindi siete lì e quindi sapete che non avete bisogno di vestirvi perché siete già vestiti siete voi no? quindi non avete bisogno di prendervi un'immagine al limite lo potete fare se siete in un mondo virtuale per farvi vedere degli altri ma di per sé per avere l'immersività non è importante quindi quello che è importante nella realtà virtuale è il concetto di immersività immersività è quello di poter riconoscere in quel mondo qualche cosa che vi inganna veramente cioè inganna nel senso buono cioè che vi fa veramente fare qualche cosa di utile quindi vabbè parte le etimologie insomma ci sono tutta una serie di cose poi dunque vabbè le cose fondamentali sono i visori di realtà virtuale quindi head mounted display ci sono ecco un concetto importante di questi di queste cose e adesso poi vediamo un attimino ma più o meno ve l'ho già accennato il ve l'ho già accennato prima i costi però in realtà per avere cose visori di realtà virtuale si può andare da i 50 o anche meno euro per un google cardboard che però la cui qualità è criticabile per certi versi si arriva a 150 euro per quello che è l'Oculus Go e si arriva invece per le periferiche cioè per i visori tipo Oculus Quest eccetera si arriva sulle 400 euro circa e forse 500 600 euro per HTC Vive quindi i costi sono però è qualcosa di serio 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 e per serio intendo 6 gradi di movimento e vi spiego subito cosa sono i 6 gradi allora il cardboard quanti di voi l'hanno usato già un cardboard sì alcuni allora il cardboard se l'avete usato sapete benissimo che il cardboard riesce a percepire il fatto che voi vi giriate attorno a voi stessi quindi giriate la testa riesce a percepire il fatto che annoiate quindi che muoviate la testa in alto in basso destra a sinistra o che fate l'interrogire insomma queste cose allora il sì con lo smartphone dentro infatti il cardboard e si definisce il cardboard un qualche cosa cioè tipicamente un contenitore dove si mette lo smartphone dentro ci sono delle ci sono delle delle lenti che permettono di vedere bene altrimenti se metteste il smartphone direttamente davanti gli occhi non vedreste niente quindi è soltanto una cosa così si chiama tre gradi perché percepisce solo le rotazioni rotazione sinistra destra alto basso poi c'è un'altra insomma percepisce praticamente solo come muovete la testa ruotate la testa in realtà la cosa importante è avere la cosa che veramente dà realismo è avere i sei gradi di movimento sei gradi di movimento vuol dire che se voi vi muovete nello spazio il cioè fisicamente dove siete vi muovete un metro in avanti lui dovrebbe capire che voi vi state muovendo in avanti e con il cardboard questa cosa non si può fare quindi nel momento in cui invece si percepisce anche la distanza quindi si va avanti indietro sinistra destra in alto e in basso si hanno quei famosi sei gradi di movimento completi ok quindi sono le tre rotazioni e le tre movimenti spaziali un po' per chi di voi lavora con Second Life sono praticamente o con dunque andiamo un po' andiamo un po' vedete che qui c'è questo oggetto questo oggetto si muove lungo una direzione così sinistra destra per dire alto e in basso e poi c'ha quest'altra direzione sinistra destra avanti di lato insomma queste sono le tre direzioni però se permette il contro vedete che compaiono questi tre anelli che permettono di ruotare attorno a un asse a questo asse a questo altro asse e quindi queste sono le cose che i visori più costosi cioè quelli che costano almeno 300 euro in realtà io ho visto che ci sono dei visori del Lenovo che ho visto usato che funzionano benino che hanno 6 gradi di libertà e sono molto efficaci funzionano ok quindi allora cosa si intende per realtà virtuale è quello in cui voi proprio prendete questo schermo questo questo visore l'Oculus Go ha solo 3 gradi di movimento sì però l'Oculus Go c'è questo pulsantino che permette di muoversi seppure in maniera molto semplice quindi è già un passo avanti rispetto a Google Cardboard in cui si può soltanto cliccare che non è proprio il massimo allora quindi abbiamo quello abbiamo la realtà aumentata la realtà aumentata vuol dire questo lo vedrete se chi di voi ha visto il Merge Cube praticamente la possibilità di vedere delle sopra la vostra scrivania gli animaletti no oppure delle scene insomma delle cose che si muovono delle cose dei diorama richiamano anche no che i bambini soprattutto i più piccoli fanno impazzire perché ci hanno in mano magari una tigre no e vedono proprio la loro mano con la tigre sopra il Mixed Reality è sostanzialmente quindi la realtà aumentata vuol dire vedere delle scene reali con sopra delle cose che non ci sono nella realtà ma che vedete la Mixed Reality invece è la capacità degli oggetti virtuali che vedete che vedete in realtà aumentata che però riescono a interagire fra di loro e con proprio gli oggetti che vedete davanti a voi quindi è una cosa un po' complicata francamente non ho ancora visto degli esempi di Mixed Reality se per caso avete presente qualche applicazione poi ce la vediamo insieme ok quindi vabbè qui c'è tutta una storia eccetera ma la cosa che mi interessa di più vediamo un po' ah tra l'altro ecco i costi c'erano i costi negli anni negli anni passati erano enormi di queste attrezzature quindi non se la potevano permettere nessuno ma la cosa più interessante anzi vediamola magari su qua dunque io ho preso ecco questo qui è uno dei primi device di virtual reality esistenti la spada di Damocle fatta nel 1976 non so se si vede da voi dunque questo qui praticamente era un aggeggio che era talmente pesante che per essere portato aveva bisogno di essere attaccato a una specie di molla e qui fa vedere cosa riuscivano a vedere con questo oggetto non so se avete mai visto questo filmato questo filmato disponibile su YouTube mi fa vedere praticamente uno dei primi visori questo è un visore del 1966 che credo che il costo fosse assolutamente proibitivo poi vabbè ci sono state tante altre cose vediamo un po' ah sì uno delle prime invece questo qui l'hanno fatto nel 78 questo è un esperimento questo è un video in cui hanno fatto quello che adesso noi definiremmo Google Street View Google Street ma che all'epoca nel 78 era assolutamente originale nel senso che questi sono messi a fare una serie di foto e poi hanno fatto una cosa interattiva in cui praticamente premendo credo vedi est premendo dei tasti si poteva navigare sulle autostrade questa cosa era ottenuta semplicemente unendo insieme in modo delle foto quindi in questo caso delle foto normale foto normali adesso invece da noi adesso ormai nel ventunesimo secolo sono foto 3D però come vedete in realtà queste cose si facevano a questo punto parliamo di 40 anni fa almeno quasi mezzo secolo quindi la realtà virtuale non è in realtà un'invenzione di per sé degli ultimi degli ultimi 10 anni 20 anni ma esisteva anche prima poi abbiamo un'altra vediamo un po' se riusciamo ah la cave ecco la cave è un'altra cosa che tra l'altro in realtà si usa anche adesso da qualche parte vuol dire computer assiste virtual environment è la cave è un'intera stanza individuo di un'altra data è un'intera stanza è un'intera stanza è un'intera stanza è un'intera stanza è molto leggera perché la resa era fatta sulle rette 3D glasses per creare depth perception e holding a wand di movere e rotare immagini gli usati possono sfruttare i dati con la cave gli uccelli e altri possono letteralmente walk into i dati e interagire con lo permettendo di ottenere nuove insight into un modello però anche questo era un pochino scomoda quindi questo è un piccolo una piccola cosa ancora poi vabbè ci sono altre cose e arriviamo invece a per esempio l'Oculus Go quindi arriviamo effettivamente a questo tra l'altro questo è un video che tra l'altro è interessante in cui ci si domanda se l'Oculus Go che vedremo tra poco e che costa molto poco cioè relativamente poco quantomeno e veramente vale ancora la pena di comparlo nel 2020 quindi vedete questo ragazzo che alla fine in questo video praticamente dice quelle cose che in realtà noi già sappiamo cioè che l'Oculus Go va ancora molto bene perché costando poco essendo leggero essendo facile da portare insomma eccetera eccetera gli permette di visualizzare in modo rapido per esempio immagini a 360 gradi senza problemi o navigare in un contesto virtuale quindi può essere diciamo un modo per per fare un lavoro diciamo 3D diciamo far vedere le proprie creazioni o per esperire rapidamente queste cose quindi Oculus Go non è necessariamente il giocattolino che potremmo pensare quindi può essere può essere ancora una cosa interessante sempre qui ecco volevo farvi vedere il Merge VR questo qui è il Merge VR quanti voi l'hanno visto il Merge VR e con il Merge VR vedete che questo questo scatolo fatto di un adesso qui si dovrebbe vedere il Merge VR lo ho preso sono 50 milioni di euro vedete dal video che che fatto di questa sostanza plasticosa credo che sia l'ideale in realtà per darlo ai bambini perché una cosa del genere se cade non si fa niente dentro si mettete il cellulare e è praticamente e praticamente quello che succede è che alla fine è un cardboard non è nulla di più però è molto comodo e tra l'altro è anche al tatto insomma fa molto piacere ecco quei due tasti sopra che vedete sono in realtà sono più che altro usati per mettere le lenti hai una specie di plasticone sì ma robusto cioè sono andando in buona situazione come lo definiresti Laura che tu ce l'hai ok comunque l'altra cosa interessante di questo di questo apparecchietto è che il c'ha un vedete che c'ha questo foro davanti e questo foro davanti è fatto in modo tale da apparire davanti alla telecamera questo vuol dire che potete usarlo per vedere più comodamente situazioni di realtà aumentata quindi qui faccio vedere tutto vedete che si infila in maniera abbastanza rapida poi si spostano si spostano le lenti ma tale da essere molto gradevole è molto comodo facile e io quando mi suggeriva mi chiedeva che cosa volete comprare per seguire questo corso in realtà secondo me dipende appunto da quanto volete investire no no il click il click è tenuto con i due pulsanti di sopra che fanno esattamente l'effetto click quindi c'è l'effetto ok questo qui è il merge tra l'altro il merge viewer se voi andate sul sito merge viewer merge cube qui c'è il c'è anche il insomma ce ne sono parecchie di cose ma però vuol dire merge viewer compra e va bene se lo trovate comunque è sostanzialmente un hardware però un hardware secondo me molto molto interessante mentre invece il cardboard ufficiale vediamo un po' se arriviamo al cardboard ufficiale quindi chiudiamo chiudiamo dovrei avercelo un cardboard ecco google cardboard forse non l'ho preso qua però se andiamo quanto costa il merge io ho pagato attorno ai 50 euro adesso non mi ricordo se sia 55 cose del genere e comunque poi lo fate voi con calma se vi interessa oppure se volete invece google cardboard è una famiglia è una famiglia di cose che sono sostanzialmente rappresentabili o dai cardboard di cartone una cosa del genere può costare dai 5 ai 10 euro addirittura ci sono dei kit in cui basta avere soltanto le lenti e poco più perché le lenti sono ovviamente più complicate e voi ritagliate su un cartoncino infatti era nato come una cosa una cosa di questo tipo l'unica cosa che credo che 2,5 euro infatti 2,5 è poco anche se però io francamente spendere così poco per avere una cosa di cartone così è un po' potrebbe essere controproducente perché potrebbe dare l'idea veramente di essere una cosa un giocattolo proprio brutto poi si rompe subito insomma può essere allora va bene a scuola se proprio non avete soldi e se sapete che e se sapete che i vostri ragazzi sono veramente tanto non disciplinati quindi rischiano di buttarlo per terra eccetera quindi una cosa da 2 euro insomma si può anche tollerare allora quando lo comprate fate attenzione che sia fatto proprio così vedete qua che c'è una specie di tasto in alto sì il mio mi si rovinava tipicamente mi si rovinava tipicamente dopo 2 o 3 volte che lo usavo quindi c'è una durata proprio molto molto limitata dicevo controllate che abbia questo tasto qua perché i primissimi questo è praticamente il cardboard di tipo 2 quindi se dovete comprare un cardboard cercate un cardboard V2 perché la versione 1 aveva un sistema abbastanza brutto cioè nel senso che poi l'hanno tolta non reggeva cellulari grossi e quindi era un pochino complicato comunque su Amazon trovate cardboard V2 cercate cardboard V2 e se comprate dei visori di questo tipo tanto questo qui oltretutto questo qui c'è anche un addirittura c'è il telecomando lo vengono 1099 io non li ho provati questi col telecomando però dovete cercare di capire che quello che comprate sia effettivamente un cardboard V2 questo qui ad esempio non è segnato esplicitamente quindi avrei già dei dubbi il problema è che se vi trovate un cardboard che di tipo vecchio che non funziona bene o che non ha il pulsante io ad esempio ne ho comprato uno un anno fa che aveva non c'aveva il pulsante praticamente potevi soltanto guardare e ho visto che anche diversi diversi di voi avevano comprato un cardboard di quel tipo e diventa molto frustrante perché la mancanza del pulsante è veramente veramente si sente e non va bene anche se poi ci sono dei piccoli accorgimenti che permettono di usare i cardboard anche senza pulsante ma direi a questo punto se riuscite se riuscite diciamo se volete comprarlo comprate uno col pulsantino allora poi se volete io ne ho preso alcuni magari vi dico quelle che ho comprato io su cui su cui ho visto che più o meno funzionano sì diciamo che senza pulsante di solito si guarda un punto e si tiene fermo lo sguardo sugli oggetti e allora si compone diciamo quello che chiamano un reticol che permette di avere di avere il riempimento ma non è però così istantaneo come avere come avere la cosa buona sì però voglio dire la differenza fra avere il tasto e non averlo sembra una banalità ma è veramente abissale cioè diciamo che toglie veramente un elemento di importantissimo quindi veramente prima di comprarvi un cardboard accertatevi accertatevi che ce l'abbia perché magari costa magari rischiate di spendere come ho fatto io anche una cosa che costava 30 euro che poi alla fine non ne vale la pena quindi allora cardboard quindi abbiamo visto quello ah ecco la cosa che stavamo dicendo era il confronto dei vari la piattaforma dei dream non è una piattaforma di google che voleva essere un competitor di oculus go in pratica dei dream è un sistema che permetteva di avere un pulsante che fungeva da mouse 3d che permetteva di muoversi ma il problema dei day dream almeno quando io ho avuto un cellulare dei dream in italia non erano ancora venduti i day dream quindi non si riusciva almeno io non ero riuscito a trovarlo ma poi comunque adesso google ha reso non sviluppa più quindi dei dream non c'è più niente per dei dream probabilmente perché loro hanno pensato che quello che fa dei dream lo fa oculus go e il prezzo è più o meno quello ma oculus go è nettamente meglio quindi hanno preferito diciamo ritirarsi dal mercato purtroppo la notizia un pochino bruttina è che anche classroom no scusate anche il google cardboard google cardboard praticamente non è infatti voi cercate open source perché è diventato open source il 7 novembre 2019 che sembrerebbe una buona notizia in effetti lo è ma perché diventa open source perché anche da lì il google si ritira quindi google ha detto che non vuole più sopportare direttamente google cardboard però prima di lasciarlo non dico morire insomma prima di lasciarlo a se stesso ha deciso di farsi tutto un lavoro invece l'abbandono del progetto dei dream ha fatto diventare completamente open source tutta la parte di google cardboard e la cosa interessante è che lo sto aspettando con ansia stanno per pubblicare dovrebbero farlo credo a settimane spero stanno per pubblicare un intero nuovo sdk per google cardboard da usarsi in unity e questa cosa qua non appena se per caso la fanno mentre stiamo facendo il corso magari la useremo che sarebbe interessante quindi infatti se vi ricordate come ho detto prima noi faremo un corso di unity per riuscire a gestire questa cosa qua va bene poi le confronto qui andiamo sull'articolo di wikipedia e qui vediamo tutte le tutte le possibili adesso poi magari ne manca qualcuno però diciamo che ce ne sono parecchie e qui abbiamo nonostante qualcuno mi ha detto che qui non c'era l'oculus go però c'è nel senso che facciamo oculus go vedete che c'è l'oculus go e qui ci sono tutte le caratteristiche dell'oculus go quindi vi fa vedere qual è il processore quanto pesa 467 grammi vi dice quanti quanto più o meno costa in euro quindi vedete che qui dice da circa 219 euro in realtà secondo me la si trova molto meno spiega un po' le sue caratteristiche ecco una cosa importante di queste cose è vedere questi dati che sono il refresh rate e il field of view allora refresh rate indica quanto l'immagine è fluida quindi per essere fluida veramente dovrebbe essere almeno sugli 80-90 hertz infatti se guardate qua il quest allora il quest in realtà vedete che c'è 72 hertz quindi c'è qualche problemuccio comunque chi usa il quest tipo magic non se ne accorge ma troppo però quelli se andiamo su sull'oculus rift s ad esempio vedete che siamo già sugli 80 hertz e l'htc vive se lo trovo htc vive eccolo qua siamo a 90 hertz quindi la visione con l'htc vive che costava intorno ai 400-500 euro è molto fluida poi vedete che qui in mezzo ci sono anche delle cose a 120 hertz insomma eccetera comunque era giusto una lettura quindi refresh rate più alto è questo e più fluido è la visione field of view è anche importante perché più ampio è e più vi permette di vedere a più alto spettro allora Windows Mixed Reality io l'ho usato e in particolare ho usato Mixed Reality è praticamente la versione Microsoft di questo di queste cose e l'ho usato con Lenovo Explorer con Lenovo Explorer che trovo anche questo molto comodo ed è sostanzialmente molto simile agli altri di classe in realtà il Windows Mixed Reality è un visore a sua volta quindi non è che necessita un visore tutti i visori di questo tipo qua questi visori qua che sono elencati in questa prima parte quindi quelli che abbiamo chiamato Tethered Tethered vuol dire che sono attaccati a un computer normalmente questi visori richiedono dei computer abbastanza importanti adesso qui forse perché si attaccano al computer e pretendono che il computer abbia certe esigenze quindi quello che sicuramente ha più esigenze è l'HTC Vive proprio perché ha un frame rate e una field of view molto alto e che vuole delle schede grafiche abbastanza costose quindi si parla di schede grafiche e di computer di conseguenza che costano almeno 1500 euro poi a seguire c'è l'Oculus Rift adesso si l'Oculus Rift l'Oculus Rift vediamo un po' se ci arriviamo l'HTC Vive Pro l'Oculus Rift vedete questo che necessita più o meno delle schede grafiche come l'HTC Vive però togliere delle schede grafiche un pochino più basse quindi ad esempio per intenderci l'Oculus Rift l'ho visto usare tranquillamente su una Nvidia 970 che è tutto sommato l'Oculus Go non ha bisogno di scheda grafica perché diversamente avete visto che qui abbiamo i tetere tetere vuol dire che sono collegati col computer e riassumiamo sono l'HTC Vive che è quello costoso abbiamo visto che c'è il Lenovo Explorer che è questo qui che abbiamo visto adesso che però ha bisogno di una scheda grafica un pochino più bassa quindi probabilmente su Lenovo Explorer basta anche una 960 e poi qua è notevole spero di vedere no l'Rift S che probabilmente è simile all'altro e poi ci sono i stand alone o anche detto all in once e all'interno di all in once vedete che trovate l'Oculus Go e l'Oculus Quest questi visori non hanno bisogno di un computer quindi Oculus Go non ha bisogno di niente quindi nel momento in cui comprate l'Oculus Go sappiate che dovete solo caricarlo purtroppo si scarica abbastanza rapidamente nel senso che credo che duri un'ora e mezza però dipende anche da cosa ci fate però quindi potete portarlo all'aperto poi a volte sì lo potete collegare a un computer ma più che altro per caricarci delle cose però lui è in grado di fare tutto da solo quello che ha bisogno è di credo che usi il bluetooth e il wifi eventualmente quindi dovete usare il bluetooth e il wifi per caricarci sopra i giochi quindi sicuramente avete bisogno di un computer di base dove c'è a casa vostra dove gli scaricate i giochi poi una volta scaricate i giochi la esperienza e poi ve le portate in giro e non ci sono problemi ah una cosa che mi ho significato di dire il mixed reality che era il Lenovo c'è una cosa interessante che a volte mi ha fregato nel senso che il Lenovo vuole cioè il mixed reality si collega quindi non lo trovo comunque si collega quindi il WMR come ho detto chiesto prima usano il bluetooth obbligatoriamente se non hai il bluetooth non si riesce a far funzionare il Lenovo Explorer quindi è una cosa un po' particolare invece l'Oculus ecco una cosa qual è la differenza tra l'Oculus Rift e l'Oculus Rift S allora l'Oculus Rift è quello che praticamente ha bisogno di montare due stazioncine faccio vedere Oculus Rift praticamente l'Oculus Rift vediamo un po' se riusciamo a vederlo comunque praticamente ricordate che oltre al visore dell'Oculus c'è i due controller che hanno la batteria ognuno e poi ci sono due stazioni due basi vengono chiamate Oculus Rift Sensor ecco vedete sono questi affaretti qua che devono essere montati davanti all'Oculus per poterlo far funzionare sono degli oggettini che sono alti una decina di centimetri e quindi praticamente con l'Oculus vi arrivano due di questi oggetti cioè due stazioncine e poi vi arrivano due controller che sono queste cose che si mettono nelle mani e poi c'è il visore propriamente detto allora l'Oculus Rift normalmente è bandred quindi non c'è aspettare sì l'Oculus Rift Amazon vediamo giusto per Oculus Rift Amazon.it in realtà l'Oculus Rift forse non lo trovate neanche più ma trovate l'Oculus Rift S e l'Oculus Rift perché l'Oculus Rift normale ah no ecco a questi qui lo danno l'Oculus Rift più touch controller in bundle la vendono a 300 40 euro quindi in realtà non costa neanche tantissimo in teoria dovrebbero vendere anche le stazioni vediamo un po' se lo dico sì vedete che c'è la scatola questa è la scatola con cui la comprate e vedete che ci sono c'è l'Oculus i due i due controller vedete qua uno e due e poi ci sono le due basi quindi una scatoletta dove c'è tutto una valigetta dove c'è tutto e lì dentro trovate tutto quindi costa in realtà in questo momento è persino conveniente perché 300 euro 314 euro non è tantissimo quindi si è abbassato parecchio di prezzo invece l'Oculus Rift S che è la nuova variante che è uscita adesso dunque questo è il Quest Rift S Troas Rift S vediamo un po' ah questo qua questo qui vedete che costa praticamente 150 euro in più Rift S non ci sono più le basi cioè le due antennine che c'erano nell'Oculus non ci sono più bisogno perché lui riesce a funzionare solo con con tre pezzi praticamente è più comodo quindi in questo momento è più comodo di tutti anche il mix ed reality della Lenovo è uguale nel senso se noi vediamo Lenovo Explorer vediamo un po' se lo troviamo è questo quindi il Noise Explorer è simile quindi c'ha praticamente questo signore e poi c'ha questi due controller e i due controller sono sufficienti e fanno più o meno quello che fa l'Oculus Rift S ma la differenza è che dovrebbe costare un po' di meno vediamo un po' quanto costa ci avremo a vedere quanto costa non si capisce qui quanto lo vende comunque io l'avevo comprata 280 euro questo tanto per dirvi questi qua hanno bisogno tipicamente dell'HDMI cioè di una porta supplementare HDMI su cui collegarsi praticamente più che altro in questo caso ho collegato soltanto il visore con la porta HDMI e invece questi due affari qua si collegano via bluetooth adesso per avere le idee chiarissime chiarissime bisognerebbe che lo vedeste direttamente tra l'altro noi pensavamo tra qualche mese di organizzare anche un incontro dove magari vi facciamo vedere fisicamente dal vivo tutte queste cose no? perché vederle adesso così sia pure in questo modo mi rendo conto che è un pochino è un pochino poco va bene questa è una carellata spero che qualche cosa vi abbia carito spero che non vi abbia confuso allora per la scuola secondo me potendo investire è meglio il Go sì tra l'altro c'era ecco una cosa che mi hanno visto ecco questo qui ritorno a Bude è una cosa che mi ha passato mi sembra Laura Antichi è che è tratto da un da un quadernino questo qui è un insieme di esperienze già fatte altrettutto secondo me si possono anche prendere in considerazione perché spiega esperienza per esperienza come sono state usate dei visori in realtà virtuale per fare delle schede didattiche che sono usabili e secondo me sono usabili indistintamente anche con Google Cardboard perché vedete che ad esempio questo qui allora questo qui usa un suo hardware che si chiama ClassVR ClassVR è un oggetto che vendono ho visto ne vendono otto tutto insieme a un prezzo di 2700 sterline che secondo me è per fin caro perché si può spendere leggermente di meno per ottenere delle cose simili però la cosa interessante che mi piace di questa scheda qua è che veramente fa vedere tutte tutte queste idee che possono essere sfruttate ad esempio questo qui il Return to Bude praticamente sono i ragazzini che sono andati a fare una vacanza di una fine settimana credo in una cittadina e poi i maestri hanno fatto delle riprese 3D 360 gradi delle foto 360 gradi e poi hanno fatto dei gruppi in cui i ragazzini praticamente dovevano commentare la loro esperienza sulla base delle foto 360 gradi in questo in questo particolare caso io l'ho letto interessante che loro hanno fatto una specie di prova doppio cieco nel senso che hanno preso un po' di bambini e gli hanno fatto fare il commento su delle foto normali e altri tot bambini invece lo facevano usando gli headset cioè quindi queste cose a 360 gradi e poi hanno invertito i due gruppi in modo tale che vedessero anche la differenza e hanno visto ma che è ovvio oltretutto che una volta messi di fronte delle foto 360 gradi i ragazzini riuscivano a ricordarsi molto di più dell'esperienza a farsi venire in mente proprio cioè diventava proprio un'esperienza che rivivevano e la vivevano in maniera più completa quindi c'è anche soltanto per scambiarsi le memorie ok sì era molto più immersiva quindi era un'esperienza proprio questa quindi allora il nostro corso di VR parte con l'immersività e il primo compito che vi sto dando è semplicemente come ormai avete capito è un compito in cui vi si chiede di fare di produrre in qualche modo possibilmente intanto già nove persone hanno consegnato il compito quindi quello che dicevo che siete velocissimi quindi c'è il modo per il modo per realizzare una foto a 360 gradi si può fare in parecchi modi ma il modo più diciamo complicatissimo in realtà però è complicatissimo è semplice ma complicato nel senso che vedete che col cellulare il cellulare vi fa vedere man mano una molto importante che vi fa vedere praticamente un pallino voi dovete semplicemente inseguire il pallino e man mano che inseguite il pallino il cellulare compone automaticamente la foto e per panorami di questo tipo direi che funziona benino questo sistema per panorami un pochino più vicini tipo se lo fate a casa vostra in situazioni dove siete molto vicini tipo le pareti o le strade eccetera e viene un pochino più complicato ora questo video in particolare è fatto da Astrid Ulschberg non mi ricordo come si chiama andiamo un po' se riesco a ricordarmelo andiamo su YouTube Astrid Ulsebosch ci sono arrivato molto vicino Astrid Ulsebosch usa da anni direi la tecnica delle foto 360 gradi perché le usa lei è una specie di ambasciatrice di è una specie di ambasciatrice di un prodotto che è per le scuole che si chiama ThingLink che è a pagamento per certi versi ma c'è anche una versione free che mi sembra che da qualche settimana da qualche mese consente di creare dell'ambientazione 360 gradi gratuitamente senza dover pagare una retta che effettivamente non è non è bassissima sì peraltro Astrid l'ho incontrato cioè lei lo fa proprio per passione non per vendere questo oggetto quindi ha un'esperienza in questo mondo quindi c'è un'esperienza molto alta quindi spesso diceva se qualcuno fosse interessata a voler la versione diciamo professional cioè lei può farla avere con degli sconti abbastanza interessanti comunque la versione ThingLink ThingLink è questo sito ThingLink è proprio una specie di YouTube delle immagini navigabili quindi c'è ci sono un sottotoc di roba adesso non so se riesco a farlo vedere ma comunque in pratica con ThingLink si può vabbè qui chiede di inserirsi un po' se riusciamo a a vedere qualche esempio non si occupa più di ThingLink peccato vabbè comunque il concetto di ThingLink è che è che è possibile creare dell'ambientazione tipo queste qui 360 gradi in cui ci sono degli oggetti o dei punti che si possono cliccare e che permettono quindi di navigare di interagire di vedere dei video in un ambiente diciamo a 360 gradi vediamo un po' Explorer se vediamo qualche esempio ecco questi qui sono del un po' se riusciamo a vederlo no vabbè adesso non riesco a farlo vedere non so rispondere questa cosa qua magari ritroviamo a cercare nelle prossime giorni adesso io sono un po' sono un po' uscito dal tempo che mi ero dedicato che ho pensato di fare tutto in un'ora invece siamo già un'ora e un quarto direi che vi ho detto un sacco di cose se avete ancora un paio di domande magari non così complicate come quella di scaricare foto dell'universo magari sto ancora un paio di minuti comunque in ogni caso vi ringrazio scusate se abbiamo fatto un po' tardi se mi hanno detto troppe cose comunque le prossime volte alla prossima lezione cerchiamo di essere un po' più concreti quindi andare un po' sul merito proprio di quello che facciamo e eventualmente se se Laura è d'accordo magari lei o anche insieme a qualcun altro possono fare dei piccoli interventi per spiegare queste cose che vi ho detto quindi Team Link Immagine 360 eccetera va bene allora io se non c'è domande specifiche direi che sospendo la registrazione che vi era pubblicata fra mezz'ora credo anche perché non c'è stato e ci sentiamo su Facebook comunque le prossime settimane lezione di questo tipo fra 15 giorni ma la settimana prossima c'è la lezione di Eva giusto Eva che farà il pozzo giusto se c'è Eva farà il pozzo buonanotte grazie a tutti Grazie a tutti.